E come ogni anno torna a Telenova a trovarci la dottoressa Carmela Ventura per presentare il nuovo corso. La dottoressa Carmela Ventura è una pedagogista esperta in arte e scrittura creativa e ci presenterà lei stessa questi corsi che propone. Allora sì anche quest'anno come negli anni precedenti e sto progettando una giornata di arte e di poesia per le scuole primarie di Ragusa che ne fanno richiesta. Praticamente questa giornata può interessare tutte le scuole di Ragusa e anche della provincia sempre concordando con i presi della giornata e tutto ma questo avverrà dopo. Di che cosa si tratta? Sappiamo tutti che la creatività, che la buona scuola, le indicazioni nazionali, la normativa, le circolari ultimissime parlano di ambienti di apprendimento, di laboratori di creatività e sottolineano proprio l'importanza basilare del fare del bambino. e quindi questo mio obiettivo che poi è stato l'obiettivo della mia vita perché è dal 79, dal lontano 79, che io dirigevo anzi un laboratorio artistico nella scuola Cesare Battisti con la legge 517. Credo che sia stato uno dei primi laboratori per tutta l'Italia e da lì ho avviato questa attività che è stata molto gradita agli alunni e anche ai soggetti disabili o con gli eventi. Continuo quindi anche nonostante io ormai sono in pensione da qualche anno, credo che mi conoscete tutte, ma la mia passione continua e nonostante io abbia delle nepotine a cui potrei trasmettere questa mia passione. Sento che ancora posso parlare agli altri, ai bambini di tutta Ragusa, della provincia, a dare una giornata diversa di lettura dell'opera d'arte. Praticamente in che cosa consiste questa giornata dell'arte e della poesia? E fissiamo una data, una giornata con il presidente, con l'interclasse, con i docenti, non lo so. Poi riuniamo tre, quattro classi nell'aula magna, si propone un artista, si propone una corrente artistica, astrattismo, climate e cose via. Si invitano i bambini a parlare, ad esprimere le loro emozioni, si torna in classe, con la mobilità dei banchi, si cerca di creare un'aula laboratorio e si invitano i bambini a giocare con l'arte di climate, come per esempio nel manifesto che ora vi farò vedere, l'albero della vita, i bambini giocheranno, faranno il loro albero fantastico, giocando però con i colori, con le linee e le forme di climate. E' ovvio che i bambini possono liberare tutta la loro fantasia e creatività e nello stesso tempo hanno un forte stimolo, hanno un forte input artistico che li porta a migliorare la loro produzione perché se noi diciamo ai bambini disegna un albero, è chiaro che lo disegnano allo stesso modo e noi lo sappiamo, entrando nelle classe, il bambino disegna così, come lo vede l'albero ma se noi diciamo disegna il tuo albero fantastico, il messaggio è completamente diverso può essere un albero in cui sono sospese, libre, regale, non lo so, giocattole i bambini faranno delle cose proprio veramente incredibili e quindi dicevo che la scuola dovrebbe educare sia il pensiero convergente e divergente questi laboratori di apprendimento che ormai, insomma, mi pare che già tutte le scuole si stanno attivando a farle, c'è un bel movimento per l'aggiornamento almeno io qui lo vedo e quindi i laboratori, dicevo, consentono al bambino di sapere, saper essere e fare per cui è proprio un tuffo nell'immaginario, nella fantasia, nella creatività una libertà, libertà, un momento di libertà quindi questo... ah, poi dimenticavo di dire che nelle scuole ormai, visto che c'è la LIM dappertutto possiamo anche proiettare l'immagine artistica con la LIM per cui verrebbe una cosa molto bella i bambini hanno modo, mentre disegnano, di guardare i colori, le forme questa iniziativa è già partita nel 2012 con la Maria Leventre, Rodari, Palazzello un circolo di comiso e diciamo che ha avuto risultati ottimali anche sorprendenti, specialmente per alcune bambine che hanno, diciamo, la passione per il disegno però non riescono a disegnare come noi vorremmo che disegnassero e invece no, noi dobbiamo accertare qualsiasi stile grafico dobbiamo gratificare tutte perché la scuola è la scuola di tutte e di ciascuno e quindi ognuno si esprime con le proprie emozioni col proprio stile, col proprio codice linguistico, cognitivo e così via e poi io direi anche una proposta per il tempo libero sappiamo tutti che i bambini passano il tempo libero davanti ai computer si tratta di due o tre ore che io non condivido pur accettando le potenzialità del computer invece sarebbe bello che sfogliassero libri d'arte che disegnassero o che si incontrassero con bambine e per esempio che per i compleanni e io già questo l'ho fatto con i miei alunni dicevo sempre non regalate cose banali nei compleanni non regalate giocattoli regalate materiale, ossigeno per la mente e veramente avevano cambiato modo, stile di vita regalavano opuscole d'arte regalavano poesie, racconte insomma dobbiamo dare ai nostri figli, ai nostri nipoti una marcia in più dobbiamo fare in modo che queste bambine vivano intanto felicemente e vivano la scuola con entusiasmo e basta poco, credetemi che basta poco a dare entusiasmo e manderò ecco alla scuola io una email sulle modalità e sulla struttura del progetto le scuole che vorranno aderire all'iniziativa possono fare riferimento alla mia email per gli alunni invece che mostrano talento artistico o che comunque mostrano passione per il disegno per la pittura, per la creatività diciamo in generale possono telefonarmi e chiedere informazione perché sicuramente attiverò dei corsi collaborata da mia figlia vi farò ora vedere alcune produzioni dei bambini per proprio farvi vedere da vicino che cosa possono fare i bambini con l'arte perché l'arte stimola di più ecco come vedete questa è la locandina che ho progettato io raffigura l'albero della vita di Klimet è un albero come potete vedere fantastico saranno invitati i bambini poi a progettare il loro albero poi ci può essere anche l'incontro o quello dell'arte o quello della poesia o tutte e due questo verrà concordato con i presede e con i docenti per informazione 0 932 25 23 74 oppure 339 192 7 9 6 7 l'email è prof.carmelaventurachiocciolagmail.com questa per esempio è un'immagine di Kandischi l'astrattismo di Kandischi osservando questa ed altre immagini i bambini hanno prodotto per esempio questa o addirittura questa oppure ancora questa oppure ancora questa poi io presento leggo anche do decenni biografici della vita di Kandischi così perché ai bambini fa piacere conoscere la vita conoscere l'infanzia di questi artisti che cosa mostravano da bambini quindi do anche un input letterario diciamo addirittura io facevo fare anche il tema su Andersen, su Kandischi sui poeti quindi abbinavo immagine e italiano poi per esempio guardando Cascella noi sappiamo Cascella il pittore dei fiore è venuto fuori questo vaso molto bello con fiore di tante colore notate diciamo lo spazio come viene occupato tutto lo spazio che in genere i bambini fanno un tavolo piccolino e un vaso e lasciano il foglio libro invece questo è imponente cioè domina tutto lo spazio quindi c'è una struttura compositiva particolare tipica dei pittori naturalmente questo è un prato la primavera ma è una primavera bellissima e con questo stimolo tutti hanno fatto bellissime quadrette proprio veramente questo questo è un disegno di mia nepotina con lo stile Liberty a sei anni l'anno scorso aveva sei anni ora ne ha sette a sei anni mi ha sbalordito se io non fossi stata presente non ci avrei reduto proprio e questo è un altro che ha fatto per i nonni sempre mia nipotina ha fatto la N stile Liberty le fiorelline le foglioline questo sole così fantastico cioè veramente poi esplodono i bambini esplodono per esempio con Miró giocando con l'arte di Miró queste sempre parliamo di ah no abbiamo parlato dell'astrattismo ora parliamo di surrealismo surrealismo sono figure così spiazzate nello spazio è un messaggio più che altro emozionale questi grandi occhi e guardate i bambini hanno fatto ognuno la loro lettera con lo stile di Miró è come questa per la poesia è come questa tante altre per la poesia invece io per esempio presento parto da Pablo Neruda è un poeta che a me piace troppo allora leggo intanto questa poesia accadde un giorno qual è l'ultima poesia scritta da Pablo Neruda? ah l'ultima non me la ricordo Satrapi si inizia Nixon Frey Pinochet si scritta sul letto di morte ah si io ho letto quella per quella sulla morte ah si Satrapi è l'ultima è un grido di dolore di rabbia perché siamo nei giorni del colpo di stato in Cile e lui chiama i protagonisti Nixon Frey Pinochet Tutti abbiamo sempre da prendere io mi sono rivolta di più alle poesie adatte ai bambini e questa mi ha colpito accadde un giorno la poesia venne a cercarmi non so come né quando non erano voci non erano parole né silenzio ma da una strada mi chiamava era lì senza volto e mi toccava non sapevo che dire la mia bocca non sapeva parlare qualcosa batteva nel mio cuore scrisse la prima riga incerta e vidi all'improvviso il cielo sgranato e aperto i pianeti e tutto l'universo ed io piccolo essere ruotai con le stelle e il mio cuore si sparpagliò nel vento poi come al solito racconto qualche leggo qualche cenno della vita che lui è amato ha avuto parecchie premi premio Nobel per la letteratura quella di Neruda è una poesia che emoziona che parla al nostro cuore attraverso lo splendore dell'immagine il suo lessico è ricchissimo la sua creatività è immensa riesce a cogliere con grande realismo e sonorità la bellezza della natura questo è corta corta felice oggi lasciate che io solo sia felice con tutti e senza tutte quindi da solo e con gli altri felice con l'erba e con la sabbia con l'aria e la terra felice cioè con la natura ve ne leggo una per dirvi come subito di classe quarta di una ragazza che ora è nutrizionista fa la nutrizionista ed è molto in gamba molto creativa io sono felice con il sole che tramonta con il fiore che sboccia anch'io sono felice quando sento questo fresco venticello che mi sfiora il cuore la mia felicità è immensa come i mille colori della natura e come questa anche i bambini di seconda elementare possono scrivere anche 4-5 verse e ve lo dico perché ripeto io ho iniziato nel 79 a fare questo lavoro le voglio fare sentire sta poesia di Neruda l'ultimo dopo il 17 settembre 1973 quando è stato il colpo di stato e lui già stava male ed era e nel letto di morte scrisse sta sta poesia quelle d'amore sono molto belle io ho una versione di questa poesia letta da Bruno Cirino in un disco i satrapi l'ultima poesia di Pablo Neruda morto il 23 settembre del 1973 a Santiago del Cile quindi stiamo parlando 12 giorni dopo il colpo di stato e fa Nixon Frey e Pinochet fino ad oggi fino a questo amaro mese di settembre dell'anno 1973 con Bord Berry Garrastasu e Banzer iene voraci della nostra storia roditori delle bandiere conquistate con tanto sangue e tanto fuoco impantanati nei loro orticelli predatori infernali satrapi mille volte venduti e traditori eccitati dai lupi di New York macchine affamate di sofferenza macchiate dal sacrificio dei loro popoli martirizzati mercanti prostitute del pane dell'aria d'America fogne boia branco di tenutari di bordello senza altra legge che la tortura e la fame frustrata del popolo bellissima complimenti ma lei dà vigore complimenti a Bruno Cirino perché l'ho sentito tante volte da questo bravissimo Ettore Maria che bella è commovente veramente commovente è veramente la poesia è l'anima della vita ma tutte le arti in genere la musica la poesia la poesia è la più alta espressione della letteratura lo diceva lo dicevano i letterati dell'ottocento ed è vero è vero l'onio 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 l'onio